Tra un po' vi faremo vedere queste immagini relative al modo in cui vengono svuotati i cassonetti per la differenziata. Noi differenziamo e il camion invece raccoglie, svuota e mischia questi rifiuti, quindi da differenziati diventano indifferenziati. Io da cittadino mi sento preso per i fondelli e voi, ma guardiamo e commentiamo insieme queste immagini e poi esprimeremo un bel giudizio su come ci tratta l'amministrazione comunale di Taranto e come ci tratta Chima Ambiente Amio. Guardate un po' cosa accade, guardate il raccoglitore, il cassonetto giallo, quello che viene usato per il multimateriale, viene svuotato nel camion, il primo cassonetto giallo per il multimateriale. Poco dopo un altro cassonetto giallo per il multimateriale viene svuotato e dopo un po' il cassonetto marrone, quello per l'organico, viene svuotato nello stesso camion e vedete come si mischiano tutti i rifiuti. È una vera caricatura, noi chiediamo, l'amministrazione chiede al cittadino di differenziare, come è giusto che sia, il cittadino applica, usa il massimo senso civico, almeno chi è civile lo fa e poi vediamo che la stessa Chima Ambiente Amio mischia tutto. È una cosa incredibile, sembra una caricatura, significa vanificare i sacrifici, gli sforzi che fanno i cittadini per differenziare, per andare a mettere i rifiuti nelle buste specifiche secondo la tipologia di rifiuto e per andare poi a conferirli negli appositi cassonetti contenitori riservati appunto alle varie tipologie di rifiuto. Beh, come vi giustificherete ora caro sindaco, caro presidente di Chima Ambiente Amio Mancarelli, cari organi tecnici dell'ANU, vi aspetto al varco. Certo è che queste immagini vi condannano, tra virgolette. Non avete scusanti, noi cittadini ci sentiamo presi in giro.